E' esploso purtroppo in contemporanea con una pandemia che ha riguardato gli umani e anche una pandemia che riguarda gli animali. E' stato scoperto un caso, ma non solo un caso, di PSA, peste suina africana in un cinghiale a Ovada, in provincia di Alessandria. Poi la cosa si è ramificata. Intanto a che punto è la situazione? Cosa chiede la CIA di Asti per arginare il problema che rischia di diventare veramente grave? Sì, noi come CIA agricoltori italiani di Asti intendiamo innanzitutto fare una precisazione e tranquillizzare i consumatori che la peste suina non si trasmette all'uomo e che quindi tutti gli allevamenti hanno un altissimo standard di qualità e di sicurezza per cui non ci sono pericoli per i consumatori. E' necessario però, sicuramente finita questa fase preliminare di monitoraggio, iniziare a muoversi sul territorio e partire con gli abbattimenti dei selvatici, dei cinghiali. E' indispensabile con urgenza partire con l'abbattimento dei cinghiali. Quali sono le prossime mosse, incontri con la Regione? Avete già programmato, calendarizzato una serie di eventi? Sì, la nostra struttura regionale è in costante contatto con gli assessorati dell'agricoltura e della sanità. E' necessario, adesso ribadisco, partire con l'organizzazione delle squadre e partire con l'attività di abbattimento. Bisogna cercare di contenere al massimo lo sviluppo, il possibile sviluppo di questa grave problematica sul territorio. E' necessario con urgenza attivare le squadre, magari chiedere anche il supporto alle altre province, delle persone che sono titolate ad abbattere i cinghiali, per venire nell'Astigiano, nel Cuneese, nell'Alessandrino ad abbattere la maggior parte possibile dei cinghiali.